Qual è l'impegno che prende con i quartieri di Castellammare? Fondamentale, i quartieri non devono più sentirsi una realtà a parte rispetto al resto della città, ricollegarci e per questo la necessità di un patto con i quartieri, un patto di quartieri da sottoscrivere non solo con i cittadini ma anche con le parrocchie e con le associazioni. Un patto di quartieri aperto. Noi abbiamo individuato i punti che sono sotto gli occhi di tutti e a questi punti se ne aggiungeranno altri di volta in volta. Prendiamo l'impegno di incontrarci periodicamente dall'indomani del giorno della vittoria delle elezioni. Ci incontreremo per attuarli da subito. Ripeto, aperti perché andranno integrati di volta in volta, sollecitati dal cittadino, con l'ausilio del cittadino, con l'istituzione dei comitati di quartiere che costituì sempre dal cittadino, dalle associazioni e dalle parrocchie che vigileranno sull'andamento della risoluzione delle problematiche e sull'inserimento di nuove problematiche. L'obiettivo sarà dare vivibilità alla città, quindi un intervento sulla raccolta differenziata per riportarla al 65% per iniziare, quindi entrare tra i comuni virtuosi e poi con l'obiettivo di aumentarla fino al 70-75%. È una condizione di assoluta importanza per dare vivibilità ai cittadini, quindi conseguenziale sarà la pulizia delle aree verdi, dei marciapiedi, l'installazione di cestini per la raccolta di carte, mozzicone e sigarette e direzione canina.